I tecnici dicevano a Sembrastano... Quella reazione che noi vogliamo con iniziative come queste, una reazione della società civile, una sensibilità dei giovani, perché sono loro i cultori della legalità, coloro che possono fortificare la nostra società dal senso della lotta costante. In qualche modo vale quella frase di Piero Calamandrei, scritta in un'altra epoca, in un'altra occasione, l'ode a Sant'Anna. Ora è sempre resistenza e con la criminalità organizzata e la cultura mafiosa fatta di omertà, fatta di corruzione, fatta di rapporti sotto quello che è l'immagine complessiva ma che portano poi sempre a fatti illeciti al dispregio della persona, come è accaduto nella strage dei giorgofili, è che dobbiamo essere fortificati e fare molta rete fra le istituzioni e molta sensibilità fra i cittadini.